Buona giornata a tutti, qui parla Claudio Simeone insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti, vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Prometeo Alto Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Francesco di cosa parliamo oggi? Io vorrei partire con una tematica che è interessante che però diciamo anche un'iniziativa culturale, se tu mi dai 5 minuti la spiego. Sabato sera alle ore 21 a Montecchio Precalcino alla fattoria provinciale, alla fattoria agricola sperimentale della provincia di Vicenza ci sarà la rappresentazione teatrale Reitiadea della nostra memoria e verrà appunto la rappresentazione fatta dal teatro continuo di Padova, è uno spettacolo che trovo interessante e chi l'ha visto lo trova ben fatto, ben realizzato, è un bello spettacolo, è un qualcosa che ci richiama alla nostra cultura, alle nostre radici, al nostro Veneto, al nostro mondo culturale ed è anche giusto andarlo a riscoprire. La festa appunto è all'interno della fattoria agricola provinciale Montecchio Precalcino, è facile trovarla perché appunto è una zona agricola che poi è indicata, il teatro viene fatto appunto sull'aia della fattoria, purtroppo è una festa a pagamento e l'ingresso della festa costa 6 euro, all'interno della festa vi trova le serie di stand, c'è anche il nostro amico Andrea, famoso per le riti che ha realizzato e per i pentacoli che ha realizzato, perciò lui prende con il suo banchetto, c'è la ricostruzione di un accampamento romano e di un villaggio celtico, si può anche mangiare, noi andremo appunto a vedere questo spettacolo che è meritevole e gli ascoltatori che hanno voglia di farsi una scampagnata perché Montecchio Precalcino è anche una bella zona appunto di vista del paesaggistico, possono sabato alle ore 21 venire a vedere l'opera teatrale, noi staremo lì in zona, chi si vuole ad accodare a noi, noi ci troveremo a Malostica verso le 8 assieme a vari amici che andranno alla rappresentazione, gli do il numero di cellulare che è 349 75 54 994, di conseguenza se qualcuno ha difficoltà nel reperire nella campagna Veneta, Montecchio Precalcino è fortuna che c'è ancora la campagna Veneta e che non c'è una zona industriale o artigianale e per fortuna che non ci sono cappannoni e se qualcuno ha difficoltà di arrivarci si può accodare alla nostra colonna che andiamo giù a vedere a questa cosa che merita il nostro avviso di sostenere. Portate pazienza per il discorso della festa all'ingresso a pagamento ma è una festa commerciale e logicamente le feste commerciali devono avere come minimo il rientro delle spese, meglio comunque un'opera teatrale che si entra a 6 euro nella festa che processioni sagre di paesi santi vari e già questo dimostra un attimino di cambiamento culturale che è importante. Il bello appunto dell'interno è che permette anche per chi ha dei bambini di vedere appunto questo villaggio celtico ricostruito e un accampamento romano con tutta una serie di altre cose, c'è anche una mostra sulle varie percorse dei Veneti che è interessante, c'è una ricostruzione di una pietra votiva, merita di vedere anche perché la fattoria agricola provinciale è in una bella zona, perciò sabato alle ore 21 Montecchio Precalcino, fattoria agricola provinciale. Questo era proprio perché è giusto dare le indicazioni quando ci sono iniziative che sono interessanti nel nostro Veneto. Bene, 8, 9, 10 giugno, 8, 9, 10 giugno ad Anversa c'è il congresso mondiale delle regioni etniche. Si uniscono tutti i gruppi d'Europa, quelli che fanno capo chiaramente al VUCER per discutere di libertà religiosa, per discutere di come affrontare la libertà di espressione e la libertà religiosa in tutta Europa. 8, 9, 10 giugno una delegazione della Federazione Pagana sarà ad Anversa e farà chiaramente quello che potrà per discutere e per presentare. Presenteremo fra le altre cose il discorso di Cittadella, ciò che è successo l'anno scorso a Cittadella, proprio come testimonianza pratica dell'attività di terrorismo messa in essere dei cattolici. Presenteremo quel delinquente, il signor Gentilini, per il quale parlano solo che stupra i bambini, fa anche rima purtroppo, che ci ha vietato le sale. Presenteremo il discorso di Bologna, che hanno vietato le sale. Presenteremo tutte quelle cosette che sono successe qua e là nel corso dello sviluppo del paganesimo. Chiaramente la documentazione ce la porterò su e la presenterò e lo scopo del congresso del VCR è quello di preparare dei documenti che andranno alle autorità europee e alle autorità nazionali dei vari paesi, insomma, come proteste e come indicazioni per la tutela della libertà religiosa che sono degli articoli fondamentali nelle Costituzioni. Una libertà religiosa che è sempre stata mal concepita, cioè viene concepita come libertà dei cattolici di stuprare i bambini. Ultimamente le cose sappiamo che sono un po' cambiate e ne parleremo anche in questa trasmissione. Però una libertà religiosa dove i cattolici si sono permessi di offendere qualunque tipo di religione, qualunque tipo di sentimento religioso in base ad una tradizione di massacri e di macelli continui. Qui c'è Francesco, se no vi leggevo da Desner come hanno cristianizzato la Norvegia, insomma, per fare un esempio a caso. Comunque solo adesso qua e là qualche magistrato comincia a concepire il concetto di libertà religiosa come la Costituzione lo sta manifestando. La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno già messo in chiaro parecchi aspetti, aspetti che però sembra che vengano completamente ignorati da persone come i cattolici che vanno ad offendere le persone. Ultimamente è stata rinviata a giudizio la Fallacci per offese ai musulmani su denuncia di Smith. Naturalmente ho visto una televisione televisiva in cui diceva come fa proprio Abdel Smith che parla del Gesù di Nazareth, del crocefisso come di un cadaverino appeso, proprio lui chiede che non venga diffamato i musulmani. Sono due cose diverse fra quella che è un'osservazione, fra quella che è l'espressione di un'idea e quella che è la manifestazione di se stessi, è quella che è la diffamazione. Chiaro che il fatto che il crocefisso sia un cadavere non è che lo dice semplicemente Abdel Smith, ma lo dice la religione cattolica. Cioè la religione cattolica dice che il suo Gesù è morto in croce. Per cui che il suo Gesù fosse un cadaverino è la rappresentazione di un cadavere, lo dicono la stessa religione cattolica. Non è che si attribuisce ai cattolici cose o intenzioni diverse da quello che loro hanno affermato nella storia. Che dopo questo non piaccia perché i cattolici vorrebbero che gli altri vedessero in quel cadavere ciò che loro vogliono vedere, beh, questo appartiene a loro, questo appartiene al loro bisogno di costringere gli altri a vedere le cose come loro vorrebbero. Ma questo non è un insulto dire che il crocefisso è solo un cadaverino. In realtà è un insulto il fatto che i cattolici espongano il crocefisso perché è un atto di violenza rispetto alle altre regioni, rispetto alla società civile, rispetto alla società laica ed esporre il crocefisso è una bestemmia violenta e vigliacca nei confronti della Costituzione della Repubblica Italiana e i suoi principi fondanti. Per cui sappiamo che stanno cambiando gli atteggiamenti, però questo cambio di atteggiamenti come al solito avviene qua e là a macchia di leopardo, non avviene come coscienza della popolazione civile e di questo ne discuteremo ad anversa e naturalmente faremo in modo di far comprendere, di estendere rispetto alle autorità quella sensibilità alla libertà religiosa come patrimonio fondante delle civiltà occidentali. Questo l'8, il 9 e il ci incontreremo col Vucer ad anversa. Vi ricordo fra le altre cose che il congresso mondiale delle regioni etniche è patrocinato dai ministeri belgi, per cui sono i ministri belgi che patrocinano il congresso. Più o meno come l'hanno fatto i greci, i greci erano patrocinati dal ministero della cultura greco. Sembra che qua in Italia questo sia un po' più difficile. Dopodiché l'ultimo appuntamento è per sabato 18 giugno presso il Bosco Sacro a Jesolo, vi ricordo che terremo il rito del sostizio d'estate, per cui l'appuntamento grosso è per il sabato 18 giugno presso il Bosco Sacro di Jesolo. Ricordo che il Bosco Sacro di Jesolo, fra le altre cose, è segnalato a tutte le autorità civili e militari, civili e non militari, come si dice Francesco? Di pubblica sicurezza. Di pubblica sicurezza come luogo di culto, per cui è notorio la cosa. Bene, Francesco, adesso io che ho detto queste cosette, lascio a te, perché tanto io ho, siccome hanno arrestato un po' i preti per pederastia, capito, so che c'è il referendum sulla fecondazione assistita, ora la mia domanda è questa, lo so che la mia è oziosa, non è che per caso i cattolici facciano una guerra contro la fecondazione, cioè contro questi referendum perché hanno bisogno di bambini da stuprare? Perché guarda che sono parecchi che sono venuti fuori in questi giorni, forse è finita la tregua elezione papale, perché visto che prima c'era il Papa, allora si stava un po' zitti. Non rispondo ai telefoni finché non ho deciso di rispondere. No, beh, c'è da tenere una considerazione, appunto, partendo dalle campagne sempre fatte con emozioni, sentimento e varie tonalità per l'otto per mille, assistiamo di controverso una dimostrazione appunto che i fondi destinati al clero vengono benimpiegati da certi sacerdoti, cioè nel senso appunto per acquistare filmini di violenza su bambini dai 4 agli 8 anni. Logicamente l'embrione ha il suo diritto della madre, ha il diritto a vivere, però i bambini o le bambine, soprattutto i bambini dai 4 agli 8 anni non hanno il suo diritto dell'embrione. Io sarei ben contento che chi fa tanto sostenere le tesi che è giusto che l'embrione abbia il diritto di una vita umana, di una persona, avesse le stesse cose, le stesse pretese, le stesse richieste, le stesse impolizioni di dire che anche le bambine dai 4 agli 8 anni hanno i diritti dell'embrione. Sicuramente questi sacerdoti, ricordiamo, 186 indagati di cui 3 sacerdoti. No, allora, corrego questo perché la notizia che mi dà la Repubblica sono 4 sacerdoti indagati e perché alcuni parlano di 3 e altri parlano di 4, lo dice l'articolo della Repubblica del 25 maggio 2005, sarebbe il quarto sacerdote perché il terzo sacerdote, credo quello del Trentino, indagato per stuprare i bambini, indagato per aver scaricato immagini di stupro da internet, avrebbe indicato quest'altro sacerdote come responsabile della cosa perché lui usava il computer. Per cui in realtà sono 4 i preti indagati. Ora, tanto per togliere un attimino a Francesco la parola così in maniera violenta, provatevi un po' voi a mettervi in questa situazione. C'è il prete che viene indagato perché ha scaricato immagini pornografiche e questo prete dice no, veramente è stato l'altro prete. C'è una grande considerazione fra preti, provatevi un attimino a pensarci, a me non me ne frega niente, dopo chiaramente sarà la magistratura a chiarire o a risolvere la questione, però provatevi un po' a mettervi nell'ottica di dire no, io non le ho scaricate dice un prete, è stato l'altro prete, fate un po' voi insomma. Sì, io penso che sicuramente questi tutti bravi sacerdoti si siano impegnati moltissimo nel sostenere i diritti dell'embrione, sicuramente hanno dimostrato una fedeltà alla Chiesa Cattolica nel sostenere che i cattolici non dovrebbero andare a votare nel referendum, sicuramente appunto riconoscevano come dice la Chiesa che l'embrione ha il diritto delle persone, è solo che promette i bambini contano meno degli embrioni, ma ricordiamo anche che su 186, stando agli dati ufficiali che poi credo ci sono 4, 3 indagati che sono sacerdoti è una buona percentuale, cioè si implica che a chi compie questi crimini la presenza di sacerdoti è costante, continua ed è una percentuale consistente, anche perché questi sacerdoti trovano sempre la maniera di scapparlo, giustamente il Corriere della Sera ha ricordato un piccolo particolare il sacerdote patteggiò, nessuno sa, la non menzione consente a molti di tenere nascosti la condanna e dice, capita sempre più spesso a patteggiare in fretta col GIP per ridurre il minimo la pena, pagare una multa, ottenere la non iscrizione sulla fedina penale e tornerà al lavoro come nulla fosse accaduto, così se il loro vizietto non potesse sconvolgere la vita di tanti bambini a rischio all'oratorio o in palestra. E' stato per primo un sacerdote scovato a scaricare orrende foto di servizi e abusi nella sua parrocchia di Palermo ad anticipare la linea difensiva, a invocare il patteggiamento ancora prima di incontro con il GIP. Ecco, di conseguenza come vedete la cosa più importante per loro è che non ci sia scandalo, che le cose non si sappiano, che la gente non ha portato a conoscenza e come vedete i sacerdoti pedofili non creano il problema del tipo del reato, l'importante è rimanere a essere buoni i pastori all'interno delle parrocchie e degli oratori. D'altronde che i ragazzi siano a rischio negli oratori lo scrive il Corriere della Sera, mercoledì 25 immagino a pagina 20 e dice appunto che i sacerdoti hanno tutti quanti questa tendenza a patteggiare e li permette di fare questo. Perciò possono benissimo ripetere le cose infinite a volte. Ora rendiamoci conto di cosa significa questo. Io vorrei chiedere appunto come sicuramente avrebbero votato il 12 e 13 giugno questi sacerdoti, se nelle loro chiese come c'è nella chiesa di Cittadella sono presenti i vari tabernacoli della campagna per l'astensione del Comitato Scienze per la Vita. Certamente poi il discorso della Sera dice che questo sacerdote scaricava non foto erotiche ma orrende foto di servizie e abusi. Poi non lo faceva col computer privato, lo faceva con la parrocchia e che vuol dire che se sono più persone che usano la parrocchia molti hanno visto, molti hanno otaciuto e sarebbe farsi la domanda retorica perché hanno otaciuto? Perché fossi impegnati nella campagna per l'astensionismo? Su referendum? Probabilmente sì. Ma oltre a questi che sono stati beccati a scaricare da internet, vi ricordo che è stato arrestato anche il parroco della chiesa di Laglio, paesino comasco dove alla villa George Clooney sarebbe agli arresti domiciliari per abusi sessuali di un diciassettenne. Ora il prete si trova nel Canturino, probabilmente a casa dei genitori. E vi ricordo che questo prete si era fatto un sacco di pubblicità intervenendo a proposito di Clooney. E poi c'è un'altra notiziona ancora che forse qualcuno si è dimenticato. Vi ricordate Don Cesare Lodeserto? Don Cesare Lodeserto, quello che a Lecce aveva il campo degli immigrati che ha picchiato donne immigrate per farsi il porcaccio suoi, che è accusato di vari reati. Ebbene, il signor Don Cesare Lodeserto, ex direttore del centro Regina Pacis di San Fuoco, provincia di Lecce, è stato condannato a otto mesi. Ma perché è stato condannato ad otto mesi? Non per tutti gli reati che gli stanno contestando, che quelli dovrà fare degli altri processi. È stato condannato ad otto mesi perché questo signor Lodeserto aveva mandato una serie di sms con una schedina falsa in cui minacciava se stesso al fine di garantirsi la persistenza della scorta dei carabinieri o della polizia. Per cui un porco che si faceva vedere forte rispetto agli immigrati, rispetto alle donne, grazie alla presenza probabilmente delle forze di polizia che li facevano da scorta e quando stava perdendo questa possibilità ha fatto dei falsi sms di autocalunnia, di minaccia a se stesso per riuscire a continuare ad avere la scorta. Cioè, uno squale di donio, un prete. Cioè, quando dici merda dici prete a sto punto. Sì, beh, sarebbe giusto anche ricordare due piccoli particolari di questo sacerdote, di cos'è accusato. Poi vediamo nei magistrati cosa faranno, che condanne ci saranno. Però da quello che sembra anche, mi sono fatte la sacerdote, ha accusato un ufficiale dei carabinieri che secondo lui voleva le tangenti. In realtà questo ufficiale dei carabinieri faceva dei controlli nei laboratori per impedire che le persone che lavoravano venissero sfruttate. E siccome questo era liggio al dover, pretendeva che ci fossero garantiti i diritti ai lavoratori e qualcuno ha pensato bene di dargli l'accusa che pretendeva mazzette soltanto perché applicava le norme dei diritti dei lavoratori. Io ho sentito che è sotto accusa perché aveva incitato delle donne ad accusare un medico di averle violentate soltanto perché sto medico aveva una sua vita sessuale per i fatti suoi e lui non gli piaceva. Ma non è che questo medico avesse normalmente rapporti sessuali, aveva una relazione sentimentale con una donna e lui riportava che il fatto che avesse una relazione sentimentale con questa donna fosse inadeguata per la sua rieducazione. Cioè, e di conseguenza cercava di convincere questa donna a denunciare questo medico. Propriamente questo medico non era uno che approfittava, faceva il medico e nella sua posizione aveva sviluppato un apporto sentimentale. Ma che esistesse un apporto sentimentale all'infuori del contesto del centro per dei migrati portava fastidio. Allora, all'interno di questo come la mettiamo con il parroco di Napoli che dice Mamme, attente ai cartoni animati, violenti, volgari ed evocatori di esoterismo e sete sataniche. Il parroco di Santa Anastasia lancia una crociata contro i certi cartoon, invitando i genitori ad aprire gli occhi e chiudere la tv. Don Rino Santa Croce, parroco di Santa Maria, ha fatto affiggere in chiesa una lettera indirizzata alle mamme alla quale avverte attente e stanno rubando i vostri figli. Veramente i preti li stanno stuprando. Non so se vi rendete conto cosa significa tutto questo. È un disastro sociale perché questi bambini diventeranno adulti e che adulti avremo? Sì, sì, ma questo è da considerare proprio perché avvengono sempre più che le chiese cattoliche e tutte quante creano situazioni d'allarme. Noi lo ricordiamo, il 12 e 13 giugno c'è il referendum sulla fecondazione assistita. È un referendum importante proprio perché al di là della tematica che può interessare più o meno un'altra percentuale di italiani o di persone, esistono delle norme, dei concetti, una valenza giuridica che vuole essere introdotta, che è quella proprio della morale. Anche perché ricordiamoci che da queste cose, inoltre introdotto il principio giuridico della violenza sulle donne, si possono fare altri salti perché se leggiamo il Corriere della Sera, mercoledì 25 maggio, l'aborto non è intoccabile. Già un ministro dice che ci sarà la possibilità, dopo di questo, di cominciare a modificare la legge sull'aborto. E di conseguenza sappiamo dove si vuole arrivare, a quale realtà si voglia configurare in Italia. Cioè nel senso che le chiese vogliono controllare in qualsiasi momento la vita delle persone e loro sono un principio di sofferenza. Basta pensare che la posizione della chiesa cattolica sul discorso del referendum sulla fecondazione assistita ha avuto tutta una serie di critiche proprio perché rappresenta lo sviluppo di un integralismo che ha a che fare con la società. Il Cardinale Arruini ha già dichiarato nel caso in cui il referendum non esgesse il quorum, la legge fosse abrogata, che i cattolici dovranno cominciare ad applicare l'obiezione di coscienza su queste cose. Ed è una cosa significativa che c'è questa imposizione sulla società. Recentemente Sergio Romano ha dichiarato che il Cardinale Arruini ha trasformato questo referendum in un voto sull'obbedienza alla chiesa cattolica. Credo resterà deluso e anch'io concordo con il discorso che dice appunto Sergio Romano che il Cardinale Arruini sarà certamente deluso del risultato del referendum. Però qui si sta parlando non di manifestazione di un'opinione o di una scelta politica ma di obbedienza. Cioè nel senso che posso benissimo ammettere che una persona abbia una visione del mondo ma quando si comincia a parlare che un cittadino è obbediente alla chiesa cattolica entriamo in uno schema di uno stato etico moralista, impositore e inquisitore che è sempre pericoloso. Le guerre di religioni non appartengono soltanto a qualcosa di passato, di antico, di superato ma appartengono a un momento contemporaneo. Recentemente hanno organizzato anche un convegno e qualcuno ha lanciato giustamente l'avviso che dice che le chiese stiano attenti a non farsi strumento di guerra. In realtà la guerra di religione è una caratteristica di ogni monoteismo e si comincia appunto con la schermaglia, con far passare il concetto di violenza alle donne e poi si possono permettere altre violenze. Posso costruire campi di starminio, diciamocelo chiaro insomma. Perché in fondo è quello che stanno mirando gente come Ratzinger, Giovanni Paolo II prima, Ratzinger adesso. D'altronde Ratzinger già al discorso dell'investitura ha detto perché noi non dobbiamo essere integralisti. Integralisti significa volere con forza la nostra verità e d'altronde l'abuso della forza, l'abuso della forza dell'ingegno va legalmente represso, cioè l'intelligenza va repressa, la libertà va repressa, non lo dico io, lo dice l'enciclica Libertas del 20 giugno 1888. Non si stampi ciò che è errato secondo la Chiesa. Pio XII discorso dei rappresentanti della stampa USA. La libertà di stampa e di film scardinerebbe la pubblica moralità, lo dice sempre Pio XII. Le invenzioni tecniche di diffusione devono servire a santificare le anime e così via. Questo è l'orrore, è il tentativo di genocidio degli esseri umani. Sì, ecco, una cosa che sta emergendo appunto è il fatto delle intromessioni in ogni ambito di quanto riguarda l'imposizione cattolica sul fatto del referendum della Chiesa assistita. In alcune lettere, in alcune notizie riportate anche dal Corrado Agia sulla Repubblica si dice che anche gli insegnanti di religione stanno facendo campagna nelle scuole per l'astensionismo. Cioè, come noi abbiamo sempre trovato che l'insegnamento della visione cristiana all'interno delle scuole sia sempre stato un elemento non di educazione ma di diseducazione, sia sempre stato qualcosa di mal gestito e di mal proposto, di male finalità. Molte volte abbiamo riportato casi appunto proprio dell'incompetenza, dell'ignoranza, della superficialità dei molti insegnanti di religione. E adesso questi sono andati di religione che non sono neanche servitori dello Stato, ma non sono neanche fedeli a essere cittadini, stanno sfruttando la loro posizione all'interno di una struttura pubblica, assunti tra l'altro e pagati dallo Stato per andare contro le leggi dello Stato. Ovvio perché c'è la volontà di creare un Stato confessionale, uno Stato integralista. Pensiamo che appunto la visione monoteistica non appartiene solo dall'integralismo all'islam o all'ebraismo, ma anche il cattolicesimo e cristianesimo danno loro nel sangue in quanto monoteisti. Il referendum sulla fecondazione assistita sarà sicuramente un trampolino di lancio per leggi ancora più liberticide, ancora più violente, ancora più di sopraffazione. E questo si farà in maniera tale che tutti quanti i monoteismi cercheranno di imporsi questo. A me è successo, per fare un esempio, di come ci sia ormai l'intesa con tutti i monoteisti. Nel 99 un arcivescovo della chiesa anglicana dichiarò che forse Gesù Cristo non era esistito. Nel 2005 la chiesa anglicana ha raggiunto l'intesa con la chiesa cattolica sul concetto di Maria della Madonna. Come vedete, pur di trovare l'intesa, sono disposti a sparare la grosse, perché loro sanno che possono benissimo mentire, il monoteismo è sempre menzogna. Però quella dichiarazione serviva soltanto per spuntare nella trattativa qualcosa di più, qualcosa di meno. E nessuno si ricorda più nel 99 questa dichiarazione di esponenti della chiesa anglicana. Nel 2005 hanno trovato dopo secoli che si combattono, che fanno guardia di religione, hanno trovato un'intesa sul discorso della Madonna. Ma ricordate che queste intese le stanno facendo anche con gli ebrei, con i musulmani, alla fine. Ma non perché ci sia nella volontà di creare dei cittadini, ma perché si vogliono rafforzare i confini, i limiti dell'ovile, perché le grece, le pecore non escano dall'ovile, rimangono all'interno quel buon pastore. E questo qua proprio lo vedremo in tutti quanti i sensi. E proprio il fatto stesso che con il referendum si voglia imporre una visione anche sulla salute, sul corpo della donna, che poi può essere trasmesso da tutti quanti i corpi, alla fine cosa si farà per la donna che non vorrà, che gli venga impiantato in utero? Un embrione malato. E se dovesse rifiutare lo stesso, come la si potrà convincere? Certo come peccatrice c'è sempre il rogo di buona memoria per l'inquisizione. Sì, beh, naturalmente le cose devono ancora superare la Corte Costituzionale, perché ci si dimentica anche un piccolo particolare. C'è vero si va in referendum per decidere l'abrogazione di alcuni aspetti, però ricordatevi che quegli aspetti non sono ancora passati al vaglio della Corte Costituzionale, cioè non è ancora arrivato il caso che permette ad un magistrato di rivolgersi della Corte Costituzionale. In realtà i quattro referendum che si va a fare servono soltanto per eliminare tutte quelle cose obrobriose che appartengono alla legge sulla fecondazione assistita. Non è che si elimina il controllo attraverso la legge della fecondazione assistita, si eliminano le cose obrobriose, si eliminano le cose più schifose, più squallide, si elimina il fatto che le persone siano degli oggetti, degli oggetti d'uso, che le donne siano degli oggetti da usare come si vuole. Pertanto i referendum non vanno a modificare quello che è un controllo giuridico, però questi aspetti che si va a referendum non sono ancora passati per la Corte Costituzionale, cioè non è ancora arrivato il caso per cui un magistrato possa porre il quesito alla Corte Costituzionale. Vi ricordo che la Corte Costituzionale è sempre stata abbastanza precisa in materia di libertà personale e in materia di diritto costituzionale e sta anche aumentando ultimamente quello che è il suo, non è legiferare, ma la sua azione rispetto alle leggi. Pertanto comunque questi aspetti delle leggi sono tutti incostituzionali in ogni caso, per cui è bene che ci sia una battaglia di libertà fatta dalle persone, però le persone devono anche rendersi conto qual è l'importanza dell'orazione. E un'altra cosetta mi premeva Francesco, permettemi questa. Vi ricordo, fautori del sì o del no o dell'astensione o di qualunque cosa volete o avete intenzione di fare in testa, che fate quello che avete in testa voi, che Bolzano qualcuno lo ha vinto e qualcuno lo ha perso per sette voti. Non pensate che il singolo voto, la singola persona non sia importante. Il caso di Bolzano, che è stato vinto o perso, a seconda di come vi collocate, per sette voti. Meditate attentamente. Quanto sia importante le singole persone? Se pensiamo a quello che è successo negli Stati Uniti con le penultime, non con le ultime, con le penultime lezioni presidenziali, con il discorso di pochi voti, sappiamo cosa implica, insomma. No, quello che è importante è capire che logicamente le persone, anche se siamo di fronte a una campagna diffusissima, consistente, in cui proprio la Chiesa Cattolica sta dando il classico suo comportamento di imposizione della società, perché pensate che un ex ministro come Veronese ha detto che questa legge tutela più le cellule che le donne. Poi, se le donne nascono come bambine da 4-8 anni, sicuramente i preti e pedofili li piace semmeno guardarsi le foto scaricandose da internet, senza contare tutti quanti i preti e i pedofili che poi pensano loro alla vita dei bambini quando cominciano a frequentare le strutture parrocchiali. Perciò ricordiamo il perché si sposta tutto quanto, l'accento su qualcosa che non ha coscienza, che non è individuo, che non ha personalità, che non ha niente, e le persone che esistono, che hanno una vita, che sono determinanti per questa vita, contano meno di una cellula. Che i cattolici stiano dichiarando guerra alla società civile è abbastanza notorio. Io qui ho un trafiletto che è tratto dalla Repubblica del 23 maggio 2005 ed è il titolo Lettera ai fedeli dopo lo scontro fra governo e chiesa. Il Papa scrive agli spagnoli resistete al laicismo. Papa Benedetto XVI lancia un appello ai fedeli spagnoli perché rafforzino il messaggio di Cristo e resistono alle tendenze laiche. In una lettera ai pellegrini resa nota ieri il Pontefice afferma che la trasmissione della fede e la pratica religiosa non possono essere confinati nella sfera puramente privata. Inoltre la Chiesa deve essere disposta a mostrarsi ferma, cioè si chiama integralismo, sui suoi progetti di evangelizzazione e tentare di promuovere il bene comune per tutti, cioè per il popolo e per la società, cioè per se stessa in pratica. Lei è la società e lei è il popolo. Da quando è salito al potere il governo socialista spagnolo ha adottato una serie di provvedimenti sul matrimonio e omosessuali che hanno causato molta irritazione alla Chiesa Cattolica. Questa si chiama attività di destabilizzazione delle regole democratiche ad opera. Perché qui c'è un invito a disobbedire alle leggi dello Stato e questo è avversione. E' un'avversione talmente forte che ha portato il re di Spagna a dire io non sono il salvo della Chiesa Cattolica, io sono il re degli spagnoli, non sono il re del Belgio e non mi dimetto, io le leggi le firmo. Tenete presente questo. Ma tutte le regioni monoteistiche sono sovversive dello Stato e dei cittadini. Basta pensare che quasi 80 anni fa Luis Roget pubblicò un libro che parlava della sovversione cristiana. In realtà tutti i monoteismi sono sovversivi di uno Stato retto sui diritti, sulla volontà dei cittadini. È andato in una continua dimostrazione, ma soddisfatto a qualsiasi cosa. Se Corrado Auges può dire, parlando del referendum sulla fecondazione assistita, ci troviamo di fronte a una campagna di dimensioni senza precedenti su un tema dove la manipolazione delle notizie e le societazioni di tipo emotivo sono piuttosto semplici. E come vedete non c'è la possibilità di trovare un sostegno a una certa attesa di punto di vista scientifico o umano, ma si gioca sul fattore delle emozioni, sul fattore appunto della manipolazione delle notizie. E questo è fatto da sempre, perché ogni monoteismo ha sempre come mito fondatore cosa? La menzogna, l'inganno e la bugia. E questa è anche una caratteristica, perciò cosa significa poi questo metodo? Può essere applicato in ogni cosa, anche perché l'importante nel monoteismo è sempre l'obbedienza e l'essere la servita alla volontà e al desiderio di Dio, soprattutto alla volontà di Dio. E questa è una caratteristica più basilare di ogni monoteismo. Visto che c'è da firmare per le tasse, ricordatevi nel modello 740 di non firmare l'otto per mille per la Chiesa Cattolica. Firmate per lo Stato, che vi piaccia o meno questo Stato, non è importante. L'importante è che firmiate per lo Stato, firmate per lo Stato, non ignorate quella casella. è importantissimo. Noi abbiamo qui una notizia che di qualche giorno fa, però secondo me vale la pena anche di riprenderla in questo contesto. Radio Vaticana in Quina è stato condannati prete e cardinale. Cioè praticamente la Santa Sede, la Chiesa Cattolica, attraverso Radio Vaticana è stata condannata sia il prete sia il cardinale. Non è una condanna solo apparentemente è una condanna da poco, cioè sono pochi giorni di reclusione in realtà, dieci giorni d'arresto sospese il direttore e il presidente del comitato di gestione. Però la condanna, la condanna penale, apre le porte per il rosarcimento danni per tutti i morti, tutti i malati di leucemia che ha fatto Radio Vaticana. E io vorrei ricordare che quando Radio Vaticana fu denunciata per far ammalare la gente di leucemia, c'era la gente che si sentiva i rosari uscire dai termosifoni, tanto per fare un esempio. Bene, il Vaticano fece ricorso non perché lui non aveva fatto i danni, ma perché come stato straniero non poteva essere imputato di aver ammazzato delle persone di leucemia. Cioè, anziché difendersi per un reato che aveva fatto, oppure evitare di fare il reato, cioè cessare l'attività per il reato, lui ha detto non potete processarmi anche se ho ammazzato della gente perché io sono un altro Stato. E lo stesso discorso il Vaticano lo ha fatto a Condolisa Rice quando è arrivata dicendo che in America due giudici stanno processando il Vaticano per aver stuprato i bambini, perché Giovanni XXIII, il Papa Buono, è mandante di stupro dei bambini. Documenti alla mano, in mano agli avvocati. Non potete processarci perché noi siamo un altro Stato. Cocco di merda, hai stuprato bambini e non vuoi essere processato. Hai ammazzato da gente di leucemia e non vuoi essere processato. Ci rendiamo conto che questa gente qua rivendica il diritto di massacrare le persone, rivendica il diritto di fare il genocidio e fare il genocidio la chiamano libertà religiosa. Ma sto Benedetto XVI deve andare in galera e buttarvi la chiara. Visto che Claudio è arrabbiato lo facciamo arrabbiare ancora di più. Posso leggere una dichiarazione di Benedetto XVI sulla libertà che sicuramente ti troverai a condividere. Aperte virgolette, chiudo virgolette di quello che dice, questo parlava della Sacra Scrittura, dice, per questo il dono della legge sul seno non fu una restrizione o un'abolizione della libertà, ma il fondamento della vera libertà è, poiché un giusto ordinamento umano può reggere soltanto se proviene da Dio e se unisce gli uomini nella prospettiva di Dio a un ordinamento, a un ordinato a essere la libertà umana, non possono mancare i comandamenti che Dio stesso dona. Cioè, per lui la libertà sono i comandamenti che Dio stesso dona. E dice che la fondamento della libertà sono i dieci comandamenti delle tavole del Sinai. Allora, io in web ho fatto il commento dei dieci comandamenti, finora hanno avuto circa tremila contatti. Solo quella pagina, ha avuto circa tremila contatti. Sì, ma devo pensare a dire che la legge sul seno non fu una restrizione o un'abolizione della libertà, ma il fondamento della vera libertà. E chiede a tutta la gente che hanno ammazzato qual è la vera libertà. Se io quando parlo di comandamenti che sono qualcosa che deve essere impositivo, qualcosa che non può essere modificato, qualcosa che è tassativo, io non presumo che sia libertà. Eppure, vedete, il concetto di definizione di libertà, che noi abbiamo un concetto ben diverso di libertà, per loro è la totale libera sottomissione a Dio. Per la Chiesa Cattolica, la libertà religiosa consiste nel suo diritto di stuprare i bambini, nel suo diritto di massacrare le persone. Massacrare le persone e stuprare i bambini, la Chiesa Cattolica la chiama libertà di religione. Noi chiamiamo libertà di religione la possibilità di manifestare, di sviluppare il pensiero religioso. C'è bella differenza. E quando parlate con un cattolico, per piacere, non proiettate su di lui il senso civile, il senso civico delle cose. Quando un cattolico parla del bene comune, in realtà parla del bene della sua Chiesa, parla del suo essere padrone delle persone, lo so che ci vuole del tempo per riuscire a capirla sta gente, ma quando uno come il Papa vi scrive le lettere, sto parlando di varie encicliche, definendo se stesso il servo dei servi, non vi sta dicendo che è il vostro servo, sta dicendo che nella gerarchia dei servi di Dio, Madonna, Gesù, Santi e Anzige, lui è l'ultimo della gerarchia, ma voi state ancora sotto. Pertanto lui comunque rappresenta Dio, e voi dovete starvene in ginocchio. Questo è il senso quando usa il termine servo dei servi. Cioè in pratica vi vuole stuprare. Punto. No, vedete, il problema appunto del cristianesimo, della sua società, è un problema che purtroppo la società occidentale e l'europea solo trascina come una palla al piede da 2000 anni. Ma questo problema purtroppo non è un problema storico, antropologico o da facoltà, è un problema quotidiano.